Gentilissimi, ben trovati all'appuntamento di oggi nel giorno della BCE. Christine Lagarde, senza sorprese, decide di lasciare invariati i tassi al 4,5%, sigillando la terza pausa nel ciclo di 10 rialzi consecutivi, cominciato a luglio 2022. La presidente della BCE afferma che l'economia europea sarà stabile per i primi mesi del 2024, comunque ci sono segnali di ripresa successiva. La notizia fa invertire il trend ai listini europei, ma l'avvio sfavorevole di alcuni indici non permette di registrare guadagni. È il caso di Piazza Affari, dove il Futsmib poco prima della BCE aveva toccato un minimo sotto i 30.000 punti, poi come vediamo le parole della Lagarde fanno invertire la china e l'indice milanese chiude sopra i 30.160, a meno 0,60%. Seduta favorevole a Francoforte il DAX più 0,17% riesce a risalire in territorio positivo nella seconda fase di contrattazione e chiude vicinissimo ai 17.000 punti. A Wall Street il dato PIL del quarto trimestre registra un più 3,3% e supera le previsioni, tanto basta far crescere ulteriormente gli indici di New York che si riconfermano sui massimi del periodo dopo la sensibile flessione andata in scena ieri. La performance peggiore a Milano è quella di Snam che perde il 2,83% nonostante l'aumento dei dividendi previsti nel piano industriale. In difficoltà alcuni bancari, come dimostra anche l'indice Fuzzi Italia Banca, è nettamente in rosso. Biper lascia sul campo praticamente due punti e mezzo. Banco BPM archivia con un passivo di due punti esatti. Anche il quarto titolo della graduatoria appartiene allo stesso settore, con il meno 1,76% di Unicredit. Segue un altro titolo legato all'energia, quale ERG di un comparto utility che invece si presenta contrastato. Passando alle note più liete di giornata, c'è un titolo che si contraddistingue e si tratta di ERA, su cui continuano gli acquisti dopo che già ieri erano arrivati netti rialzi dopo la presentazione del piano industriale. Molto più distante si piazza in seconda posizione, Brunello Cucinelli, che supera il punto e mezzo nonostante la causa intestata da Levis legata all'etichetta dei jeans giudicata simile. Parlavamo poco fa di un settore utilities contrastato a 2A e un altro esempio, con il titolo che si risolleva dopo che l'altro ieri aveva toccato i nuovi minimi da novembre a oggi. La lista si completa con Interpump e Banca Mediolanum, società che tuttavia non riescono ad arrivare al punto percentuale di rialzo. Sul mercato valutario, l'euro flette sul dollaro americano passando a 1,0835, con circa mezzo punto di flessione. Segno meno anche su euro sterlina, in questo caso la quotazione è stabile a 0,85 ed euro yen, che pur segnando un meno 0,30% circa mantiene quota 160. Ed ora la linea al trader Sante Pellegrino con la sua panoramica sugli indici internazionali. Ospite delle interviste di Traderlink di oggi, Sante Pellegrino, trader indipendente, per dare insieme a lui uno sguardo agli indici. Ben ritrovata Rossana, giornata importantissima perché saranno decisive le parole della Lagarde che oggi annuncerà eventualmente il taglio dei tassi di interesse centrali, che però verrà proiettato quasi certamente dopo giugno e dopo la Federal Reserve che agirà per prima. Intanto andiamo a vedere i mercati che almeno risentono delle pressioni ribassiste, perché oggi un po' l'Europa e anche ieri l'America sono, come dire, respinte dalle resistenze di breve periodo, nonostante i massimi storici raggiunti. In particolare il Fuzzi Meebel, l'indice più pesante, meno 1%, torna sul supporto dei 30.200 punti, pesa sull'indice italiano anche il rating e l'outlook negativo di Deutsche Bank nei confronti di Unicredit, un caso un po' anomalo. Quindi 30.180 punti il supporto del Fuzzi Meebel che, se eventualmente violato a ribasso, trascinerebbe l'indice italiano fino ai 29.500 punti. L'unico motivo per ritornare positivi è il superamento della resistenza dei 30.580 punti. Fa un passo indietro anche il DAX, dopo aver toccato i 17.000 punti ieri, torna sul supporto di 16.895 punti. Dobbiamo ritornare sopra i 17.000 per ritornare positivi, alternativamente attesa una discesa fino ai 16.500 punti. Anche l'Eurostox indietreggia, siamo a 4.567 punti, respinti dalla resistenza di 4.600 punti. L'obiettivo è il supporto dei 4.480. Fanno meglio gli americani con il Nasdaq che recupera una importantissima soglia di resistenza dei 17.600 punti, però deve andare oltre i 17.700 punti segnati ieri per confermare il rialzo. A te la parola. Perfetto Sante, io ti ringrazio per tutte quante le indicazioni, con te rimando l'appuntamento alla prossima volta. Grazie Rossana e Sante, terminiamo con questo contributo, l'edizione di oggi. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. A domani.